Il Natale è atmosfera, magia, calore, affetto, ma quello che ci attende sarà un Natale diverso da tutti gli altri, un Natale senza bracci, senza spensieratezza. L'amministrazione comunale di Besnate, però, non vuole rinunciare al suo Natale e non vuole lasciare soli i cittadini. Per questo, con la preziosa collaborazione di Michela Prando, attrice e autrice, ha realizzato dei video della durata di 10 minuti l'uno, nei quali dà voce al territorio, ai suoi volti, alle sue storie. Questi video, proposti sui canali social del Comune a partire dall'8 dicembre tutte le sere alle 18 fino al 23, Ci accompagneranno dunque al Natale, regalandoci un sorriso e, perché no, facendoci dimenticare per qualche minuto i problemi e le preoccupazioni. L'obiettivo è proprio questo, è quello di dare risalto al nostro territorio, territorio inteso in senso lato, non soltanto Besnate, ma Besnate come rappresentazione di un'intera provincia, quella di Varese. Quindi attraverso queste storie, questi video che rappresentano storie, episodi della nostra tradizione, attraverso la rappresentazione di luoghi e di location particolari, sconosciuti e più, si vuole dare la possibilità di far conoscere il nostro territorio. Io ho chiamato scherzosamente la nostra Michela, la nostra Penelope, doveva in qualche modo riallacciare i legami tra le persone e far risuonare le voci che sono sempre dentro di noi le voci di tante persone. Noi abbiamo voluto dare volto, parola, spazio a queste voci della Besnate di ieri, di oggi e di domani. Saranno video di circa 10 minuti, alcuni rivolti ai più piccoli, alcuni invece rivolti agli adulti, quindi insomma un progetto trasversale. Sì, un progetto trasversale, io amo raccogliere le storie, mettermi lì e ascoltarle. In questo caso non ho utilizzato il teatro per ovvi motivi, ma ho utilizzato appunto i video. Non bisogna andare lontano per cercare delle storie interessanti e belle, perché qui a Besnate ne abbiamo trovate diverse. Dai bambini che ci racconteranno delle storie di Gianni Rodari per il suo centenario, poi anche gli adolescenti con lo skate, quindi storie di parità di genere. Per arrivare ai più grandi, magari proprio con Primo Carnea che è stato qui a Besnate.